Ciao amici, tanto che non ho per il momento i parenti che stavano venendo a casa mia, me ne approfitto per fare una nuova videoteprima della redazione, ovvero delle nuove piccole news. Molto interessanti perché c'è stata la conferenza PC Game Show, anniversario della conferenza di PC Game Show, hanno praticamente mostrato alcuni titoli molto interessanti e ovviamente questi titoli sono comunque in sviluppo anche per console, almeno una buona parte. Cominciamo dal primo, allora Total Chaos, in uscita nel 2025 per PC, ma probabilmente c'è anche la versione per console, ovvero PlayStation 5 Xbox Series XS, attendiamo conferma da parte degli sviluppatori. Gli sviluppatori sono i stessi creatori di Turbo Overkill, Trigger Happy Interactive in poche parole. Questo nuovo gioco è un sparatutto in prima persona con elementi di survival horror, molto interessante perché avremo a che fare con molti nemici, una vallangata di armi, e insomma saperebbe promettere bene, ovviamente non l'abbiamo messo in lista che se caso dovesse uscire per console e se caso riusciamo a prenderlo al lancio, porteremo alla recensione. Poi un altro gioco che è stato presentato, io vado ovviamente liscio liscio, senza fare interruzioni, un altro gioco che è stato presentato è Steel Speed, scusate Steel Seed, previsto per il 2025 per PC, PlayStation 5 Xbox Series XS. Molto interessante questo gioco, creato da Storm, uno studio italiano di Lantern e Close of the Sun, e Nero praticamente, molto interessante perché mischia combattimenti corpo a corpo, quindi un action, con elementi stealth game. Bella la grafica, mi piace lo stile cyberpunk, questo da tenere d'occhio. Poi ovviamente c'è il classico Kini Floor 3, anche questo atteso per il 2025 per PC, Xbox Series X, ES e PlayStation 5. Il gioco è uno sparatutto in prima persona, che si può giocare sia in singolo e in multiplier, e prodotto e sviluppato da Tripwire Interactive, col motore grafico Aria EG5. Gli sviluppatori hanno premesso una grande violenza nei combattimenti, quindi vedremo praticamente i nemici ridotti in poltiglia, vedremo arti volane, insomma lo stanno rendendo bello realistico. Come vi ho detto prima, il gioco può essere giocato fino a 5 giocatori, affronteremo le ordini di Zed, che praticamente sarebbero i nemici che si vede nel gioco, utilizzeremo e sbloccheremo armi nuove, abilità e via dicendo. Sembrerebbe promettere bene, non vediamo l'ora che esca per portarvi la recensione e un unboxing, se caso ci sarà la versione fisica. Poi arriva l'annuncio di Ternas 10 Strand, 28 gennaio 2025 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S, sarà presente al day one col Game Pass. Molto bello, il team di sviluppo si chiama Yellow Brick Games, e da quello che non ho detto, il gioco permetterà di affrontare i nemici, sfruttando l'abitazione e anche la magia, per combinarli insieme. Ad esempio noi possiamo usare la telecinesi per afferrare un masso, infoccarlo e poi scagliarlo contro il nemico. Meramente interessante perché da vedere dal gameplay offre veramente tante opportunità per quanto riguarda affrontare i nemici. Poi un'altra cosa, il team di sviluppo sta collaborando con Square Enix per la pubblicazione di futuri DLC previsti per il gioco. Interessante, l'abbiamo messo in lista che se caso riusciamo per quella data porteremo la recensione e se caso ci sarà il formato fisico. Poi un thriller che io non ho messo perché ci sono talmente tanti, è stata annunciata la datoricina di Tales of Iron 2, Whiskers of Winter, anche questo previsto per il 28 gennaio 2025, e VT5 per console, ovvero Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox, Series X e S. Vediamo se ho detto tutto giusto. Ah scusate ho mancato PlayStation 4, uscirà anche per PlayStation 4. Bello questo gioco perché sto giocando al primo e veramente emozionante il protagonista da quello che si può vedere un topo e affronteremo una specie di pipistrelli giganteschi. Molto bello, molto bello. Per chi è piaciuto il primo, questo di sicuro farà parte della nostra lista per portare o come recensione o come gioco consigliato dalla redazione. Dipende di tutto se riusciamo in tempi previsti. Bene raga, io vi ringrazio come sempre per il supporto, scusate per il ritardo dei contenuti ma quando ci sono i parenti eccetera eccetera purtroppo siamo anche sotto alle feste e il tempo è molto meno per poter fare le robe. Noi cercheremo comunque di portare la recensione di Diane & Jones appena ci arriverà il Corriere che purtroppo è in ritardo per via delle consegne sotto Natale è un po' un casino e niente, poi per altre recensioni via dicendo. Quindi ragazzi portate un po' di pazienza. Ah, nello stesso tempo vi invito a passare nei nostri negozi consigliati Game Start e Nerd Gravity e se volete fare una piccola donazione e adozione crei di DCT per aiutare i poveri animali abbandonati. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti dal team della redazione. Bye bye. Ah no, scusate, dimenticavo. Pardon. Piccolo errore di comunicazione. C'è anche un altro annuncio. Scusate. È stato annunciato da Badalianco, Bleach Rabbit of Soul. Disponibile il 21 marzo 2025 su PC, Prestigio 5, Xbox, Serie XS. Questo annuncio è meramente fantastico perché si tratta di un piccaturo basato su un anime. Meramente eccezionale e non vedo l'ora di portarvi la recensione e unboxing di questo fantastico gioco che graficamente sembrerebbe promettere bene. Vediamo un po' come sarà. Scusate ragazzi, adesso ho recuperato. Alla prossima. Scusate ragazzi, adesso ho recuperato.